Il pomeriggio del 27 dicembre un giovane di origine iraniana avvicinato in centro storico un 57enne milanese residente in città con la scusa di poter cambiare alcune banconote. Una tecnica che celava una truffa tanto che lo straniero senza fissa dimore con regolare permesso di soggiorno si è fatto consegnare dalla vittima 50 euro, ha dichiarato che erano false e poi si è dileguato in auto ovviamente senza versare il corrispettivo che spettava l'uomo. Il 27enne iraniano è stato fermato poco dopo da una pattuglia del radiomobile dei carabinieri. Il ragazzo era in possesso di un permesso di guida a contraffatto ed è stato denunciato per truffa, falsità di scrittura privata e guida senza patente. Un altro intervento è andato in scena in corso Vittorio Emanuele su segnalazione di una 69enne residente della zona che lamentava la presenza di due giovani che in pieno giorno disturbavano la quiete pubblica e i passanti. Le ragazze evidentemente ubriache, una 28enne italiana e una 27enne albanese, entrambe di Reggio Emilia, si sono opposte ai militari insultandoli e strattonandoli. L'episodio si è concluso con due denunce per ubriachezza, resistenza e minaccia pubblico ufficiale.